Sesso e tradimento, questi due punti cardine di ossessione, una miniserie uscita su Netflix in quattro episodi che esplora da vicino il mondo del tradimento ed è una serie erotica che sta appassionando moltissimi utenti e è già salita nei primi posti della top 10 di Netflix nell'ultimo fine settimana. Ciao, io sono Valerio Novara e oggi vi volevo fare la recensione di questa miniserie che mi è piaciuta parecchio e che si guarda anche in una sola serata, anche perché alcuni episodi durano una mezz'oretta, alcuni 40 minuti e in quattro puntate insomma la serie dice tutto e arriva ad un punto. È una serie erotica che è figlia anche di Sex Life, altra serie molto apprezzata su Netflix e di Fedeltà, mi ha ricordato molto Fedeltà, abbiamo fatto anche la recensione qui su Ciac la creazione della serie Fedeltà che però è italiana. In questo caso Ossessione è ambientata in Inghilterra e la trama è molto semplice. Una ragazza si innamora del padre e del fidanzato, quest'uomo a sua volta, insomma, nasce un'ossessione lui per questa ragazza e alla fine qualcuno si farà male perché in questi casi, come al solito, nelle storie dei tradimenti si lasciano delle tracce, prima o poi, insomma, scoppia la bomba e si viene a sapere quello che si è fatto. L'ho trovata molto profonda e non è per tutti e non va vista a cuor leggero, anche perché è sì erotica ed esplora il tradimento in tutte le sue forme, facendoci anche immedesimare nei protagonisti, nei due protagonisti, questa ragazza e questo padre del fidanzato. Però è una serie che ti fa fare tante domande e che andrebbe vista soprattutto da chi ha tradito almeno una volta o è stato tradito, anche perché è emozionante e arriva in un crescendo di pathos fino alla quarta puntata, all'ultima puntata, in cui c'è un colpo di scena incredibile e succedono delle cose assurde durante i quattro episodi che ti lasciano un po' così e finalmente, devo dire, c'è una serie, una miniserie che ti fa saltare dalla sedia, soprattutto all'ultima puntata o dal divano e in cui nel cast c'è anche un'attrice che abbiamo visto in Game of Thrones, che è Indira Varma e sono bravissimi anche gli altri attori, anche perché è girata benissimo, ho trovato anche la fotografia bellissima con questi colori olivastri in una Londra sempre comunque grigiastra, scura e questo amore, questo amore ossessivo appunto che riprende il titolo della serie che a sua volta è presa da, ha preso spunto da un romanzo di Josephine Hart, Damage, che esplora a tutto tondo cosa significa tradire e quanto si può far male a se stessi e alle persone che si hanno intorno. Insomma, questa storia coinvolgerà questi due protagonisti, adesso però parlerò anche del finale che alcuni le ha lasciati un po' così sorpresi e interdetti e non è stato capito da tutti gli utenti, quindi farò un po' di spoiler se avete visto la serie, mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e continuate ad ascoltare. Allora, nell'ultima puntata succede di tutto, il finimondo, prima o poi questa bomba doveva scoppiare, anche perché la ragazza e il papà del fidanzato lasciano dei segni, lui il padre fa il chirurgo, insomma abbiamo visto la prima puntata, lei lo stalkerà a tutto spiano, no? Come si suol dire, fa modo e maniera per portarselo a letto. E il rapporto tra i due continua e inizialmente c'è sesso ma anche gelosia e sarà uno dei problemi fondamentali perché lei aveva detto ci sono delle regole, in questa stanza possiamo essere chi vogliamo, al di fuori io sono la fidanzata e futura moglie di tuo figlio, anche perché poi a un certo punto il figlio le chiede di sposarlo. Nell'ultima puntata il figlio comincia a avere dei sospetti, si inizia quando sta all'addio al celibato e arriva anche il padre, il padre dice una frase che diceva sempre lei, che il figlio lo lascia un po' così perché dice, perché tu papà stai dicendo una frase che lei diceva sempre e che inizia a fargli venire dei sospetti e comincia a seguirlo perché poi il padre se ne va da questa festa di addio al celibato il figlio però ha un sentore, uno strano sentore e lo segue fino ad arrivare a questo stabile, a questo grande palazzo in cui il padre entra, il figlio prova a chiamare la madre e dice mamma dove sta papà, sai dove sta? Lei evidentemente non lo sapeva, il figlio lo segue fino al piano insomma dove arriva fino all'appartamento dove i due si vedevano, dove la sua fidanzata e il suo padre si vedevano e facevano sesso, entra nella stanza, butta giù la porta, li trova proprio beccati in flagrante a fare sesso. Una scena che ti lascia lo spettatore guardando e dice oddio, oddio, mo li becca, mo li becca, mo li becca e succede proprio quello che ci si aspetta, tranne per il fatto che pochi secondi dopo il figlio sulla porta rimane così sorpreso, stupito, amareggiato, un turbinio di emozioni, fa un passo indietro, indietreggia e cade dalle scale, cade da questo parapetto che vi dico la verità, nella terza puntata se non sbaglio quando Jay, il fidanzato di lei, va insomma a trovarla in questo appartamento e conosce la migliore amica avevo notato che questo parapetto fosse particolarmente basso e infatti il ragazzo cade di sotto e muore perché insomma fa tutti i piani cadendo e si va a spappolare nell'androne del palazzo il padre sconvolto scende le scale, lo va insomma a toccare, a sentire, vede che palesemente è morto le ha spappolata la testa e mentre lei, ma stupito la reazione di lei che è impassibile, fredda si riveste, scende le scale, passa accanto al padre col figlio morto in braccio e se ne va e sparisce c'è il funerale di questo ragazzo, ovviamente la storia viene fuori quindi quest'uomo William il padre del ragazzo morto viene cacciato dalla famiglia, la moglie ovviamente distrutta dal dolore, viene a galla la storia di sesso e di tradimento che aveva con la nuora e al funerale però lei non si presenta, Anna, questa ragazza di cui lui era ossessionato e paradossalmente lui a un certo punto va a cercarla dopo il funerale, sembra che non gliene importi della morte del figlio e che pensi solo a ritrovare lei per godersela a pieno adesso perché è rimasta sola senza più un fidanzato, può averla tutta per sé, quindi pensate la mente umana dove arriva a un certo punto lo stesso William dice è come se ci fossimo liberati di un peso, io non sono pentito di tutto quello che abbiamo fatto, è come se la morte del figlio venisse in secondo piano e fosse molto più importante il fatto che lui adesso potesse averla tutta per sé. La ritrova al mare, questa bellissima vista, questo albergo la va a trovare e lei dice però io non ce la faccio, non posso essere tua, non posso dimenticare quello che è successo che ci perseguiterà per tutta la vita. Tra l'altro sembra che tutti quelli che si innamoravano di lei, di Anna, fossero destinati a morire, lo stesso fratello racconta anche la madre che il fratello si era invaglito di lei, no, si era proprio innamorato, ossessionato e che si sia suicidato proprio per il fatto di non poterla avere e è particolare sia questa ragazza che la madre che infatti insomma non c'è molta normalità se vogliamo all'interno di questa famiglia e nelle ultime scene si vede che lei va dallo psicologo, nell'ultimissima scena lei va dallo psicologo raccontando insomma di stare male, di avere dei problemi e qui la serie ci fa capire che tutto è ciclico e destinato a ripetersi anche perché lo psicologo le chiede, lei ha bisogno di regole nella sua vita, contano molto le regole per lei e lei si vede che cambia espressione, bravissima questa attrice, l'ho apprezzata tantissimo, anche molto bella devo dire e è evidentemente destinata a rifarlo un'altra volta e ancora e ancora e l'abbiamo visto sia con il fratello che con Jay che con il padre di Jay William, una mantide religiosa dei nostri tempi che carpisce l'attenzione dell'uomo, se lo porta a letto, ne fa quel che vuole con le sue regole e a suo modo e però insomma ci va anche capire questa serie che certe cose non sono mai destinate a finire bene e che c'è sempre qualcuno che si fa male, se non noi stessi, soprattutto chi abbiamo intorno. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete vista, vi consiglio di recuperarla in quattro episodi, si vede benissimo come ho detto anche in una sola serata, iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, attivate la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo news, raccontiamo storie, recensioni che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!